guardi non trovo posto con l'auto per strada mi fa salire a parcheggiare sul balcone per favore siamo tornati in via carnia per cercare di capire come sia possibile che al terzo piano di un palazzo sia parcheggiato un motorino è solo quel motorino sul balcone no ha capito di quale sto parlando il motorino è al terzo piano portarlo su dalle scale non ci sembra una cosa fattibile magari l'ascensore è capiente con un po di sforzo una persona minuta in ascensore riesce a portarlo al terzo piano signore suo il motorino sul balcone parcheggiato come ci siete riusciti voglio sapere del motorino parcheggiato sul balcone il signor giovanni è il proprietario del motorino al terzo piano in via carnia solo curiosità come avete fatto a portarlo su è un motorino piccolissimo dunque si va e si porta di sopra è un motore sempre benzina scoppio però è piccolino per bambini massimo di cinque anni